Di vieto di lavoro in Sicilia nelle ore e nei giorni più caldi per alcuni settori a rischio e quanto prevede un'ordinanza urgente firmata al Presidente della Regione, Renato Schifani, valida con efficacia immediata fino al prossimo 31 agosto per gli addetti nei settori agricolo, floro vivaistico, edile e affini che svolgono attività fisica intensa e in prolungata esposizione al sole. L'ordinanza in particolare prevede che su tutto il territorio siciliano, dalle 12.30 alle 16, vengano sospese le attività nei giorni in cui la mappa dell'INAIL segnali un rischio alto. Per quanto riguarda le operazioni di pubblica utilità, i datori di lavoro dovranno adottare misure organizzative per salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi essenziali. Finalmente il Presidente della Regione Schifani ci ha ascoltati ed è stata firmata l'ordinanza che vieta il lavoro in Sicilia nelle ore e nei giorni più caldi. CGL e Will la chiedevano da tempo e molte sono state in queste settimane alle iniziative di protesta a sostegno della richiesta di una misura specifica a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Era anche in programma un sit-in domani davanti alla Presidenza della Regione per protestare contro il ritardo in merito. Prendiamo atto di questo intervento e restiamo comunque vigili affinché le regole vengano rispettate. Così i segretari di CGL Sicilia, Alfio Mannino e Francesco Lucchesi e della UIL Sicilia, Luisella Lionti e Ignazio Baudo, che aggiungono adesso è necessario che venga definito il protocollo per disciplinare compiutamente la materia. Resta questa per noi una questione fondamentale, così come lo è il fatto che riparte il confronto su sicurezza e salute sul lavoro.